Mazzette per non annullare atti amministrativi di natura edilizia. E' quanto scoperto dai carabinieri della Compagnia di Battipaglia, che hanno eseguito due ordinanze di custodia emesse dal Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica, a carico di due indagati accusati del reato di concussione. I due, un pubblico ufficiale in servizio presso il Comune di Montecorvino Pugliano ed il secondo, libero professionista che collaborava con l'ente, con la minaccia di annullare atti amministrativi di natura edilizia già emessi dall'amministrazione in favore di privati cittadini, costringevano gli stessi a corrispondere loro illecitamente somme di denaro e a farsi promettere la consegna di ulteriori contanti. Le indagini, scaturite dalla denuncia presentata dalle persone offese, hanno consentito di acclarare solidi elementi di responsabilità nei confronti degli indagati. Oltre alla misura cautelare, è stato disposto il sequestro per una somma di 15.000 euro corrispondente alla dazione di denaro indebitamente percepita dagli indagati.